Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale con questo nuovo video Piccolo video che mi è stato richiesto e molti di voi lo sapranno per chi mi segue sulla mia pagina fan di facebook Visto che ho messo la foto, ho rotto il day one di The Last of Us Che ho preso in edizione normale perché sostanzialmente le limited non mi piacevano per niente Titolo che come vi ho detto nel video di prime impressioni è quello che ho aspettato Perché ormai l'ho finalmente tra le mani più di più in questo 2013 Intanto vi faccio un piccolo unboxing, io ho già aperto, ormai tengo sempre il cielo fan Abbiamo questa copertina abbastanza carina dai creatori di Uncharted Ha messo questo bollino orribile giallo con scritto in canta con un realismo profondo e penetrante www.everyday.it Ancora dietro dai creatori di Uncharted e se fossi tu l'ultimo sopravvissuto Alcuni screenshot di gioco, ovviamente i protagonisti Ellie e Joel Pass online ovviamente ci sarà il multiplayer con il pass online appunto Il disco di The Last of Us tutto nero, caruccio dai niente di che Poi abbiamo il libretto, vediamo un attimo, si esatto qui c'è Dietro c'è il pass online ancora Joel ed Ellie Libretto con comandi, niente, qualche immagine tutto nero abbastanza scarno Vi faccio vedere anche la retro copertina che è tra l'altro la stessa dello sfondo Che ho messo sull'Apple 3 che vedete qui alle mie spalle E niente, piccolo unboxing giusto perché mi è stato richiesto Ho voluto accontentare quelle persone che appunto me lo hanno richiesto Più avanti avrete sicuramente la video recensione completa di questo gioco Non so se farò gameplay, magari non farò insieme anche l'online Ma lo proverò un po' più avanti Insieme a degli amici, magari ci farò qualche gameplay E così avrete sia la video recensione completa della storia in singolo Sia qualche opinione anche sul multiplayer Niente, spero che questo piccolo unboxing vi sia piaciuto Giusto così, visto che mi è stato richiesto Sono contento di aver rotto il day one Comunque il day one è domani, venerdì Quindi comunque per chi lo vuole Lo troverete domani mattina già in tutti i vostri negozi Spero davvero che sia uno dei giochi più belli della generazione E comunque ve lo farò sapere Io vi ringrazio per la visione di questo video E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti